bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video oggi andiamo a iniziare il nostro progetto di sperimentazione quello formativo per fare la dca su bitcoin e poi ragazzi alla fine di questo video vi svelo una chicca ho deciso che alla fine del video metterò di tanto in tanto ragazzi degli easter eggs cioè delle insomma mie opinioni oppure delle particolari situazioni che possono essere magari molto utili lo faccio a scherzo un po a imitazione di quelli che sono in film della marvel ragazzi quando alla fine lanciano qualche chicca alla fine del video deciso che anche io seguirò questa questo iter questa cosa di sperimentare questo gioco un po per i fedeli del canale non per beneficiare per far beneficiare i fedeli del canale che arrivano fino alla fine del video di quelle che sono magari alcune chicche alcune cose ovviamente ragazzi non sempre però molto spesso vedrò di inserire queste easter eggs e oggi ne facciamo uno sulla questo inizio sperimento vi dirò in sostanza una cosetta interessante su questo tipo di sperimentazione quindi dca dollar cost average chi non ha visto i miei video precedenti ragazzi vi rilascio qui sulla mia testa tutti i video dove spiego questo progetto e quello che abbiamo intenzione di fare e andiamo oggi quindi alle 20 fra pochissimo tempo un paio d'ore a fare il nostro primo ordine di ingresso su bitcoin e vedere quello che poi sarà la questa strategia soprattutto con l'obiettivo di fare una cosa e questo video è fatto apposta ragazzi ora vediamo anche il grafico comunque di bitcoin ma è fatto apposta per ricordarvi che questo tipo di sperimento non è una consulenza finanziaria non è un consiglio finanziario se non siete pratici di investimenti finanziari non dovete fare questo tipo di sperimento con soldi veri adesso vi farò vedere proprio su tradingview come farlo in maniera paper quindi farlo per finta ragazzi per seguire per finta e lo consiglio vivamente a tutti voi se non avete esperienza nel trading da molti anni e comunque in ogni caso anche chi vuole farlo con euro o dollari insomma veri ragazzi mi raccomando mettete giù le cifre che per voi sono stupide chiamiamole così quindi che potete assolutamente perdere vi ricordo che questo tipo di sperimento è fatto solo e unicamente da un punto di vista formativo perché andremo a fare un confronto della strategia dollar cost average con quelle che sono altre cose altre tecniche altre tipi di strategie che sono ghost che io sto realizzando ma ve le svelo alla fine di questo grande progetto quindi dopo un mesetto fra un mesetto e due settimane vedremo un po tutto quanto bene ha detto questo e ve lo ricordo alle ore 20 prendiamo il prezzo sulla quotazione di bitcoin e andiamo andrò io a fare il mio primo investimento dei 200 dollari ho deciso di fare 200 toni ragazzi sono mille due alla fine me l'ha fatto notare anche un utente giustamente perché semplicemente fare 166 periodico non era insomma utile quindi alla fine farò 66 settimane con 200 dollari di capitale investito per vedere se la dollar cost average vince vince su alcune strategie ma la chicca arriva alla fine del video andiamo a vedere adesso su trading view come poter seguire questo esperimento in maniera paper quindi senza denaro reale cosa che consiglio vivamente ragazzi a tutti voi se non siete dei trader ampiamente operativi allora questo intanto il prezzo di bitcoin una piccola chicca la facciamo sempre su bitcoin siamo in fase di chiusura ciclica bitcoin stenta a superare la resistenza in medio periodo ma è tutto normale ragazzi molti gridano è finito il pump adesso si torna a scendere ma assolutamente non è successo niente ragazzi ho fatto ieri un video speciale di analisi ciclica un aggiornamento lo trovate sul mio canale telegramma perché è lo stesso che ho pubblicato in academy ma l'ho dato anche a tutti gli utenti canali telegramma il canale telegram ragazzi lo trovate in descrizione è gratuito quindi potete accedere lì registrarvi ogni tanto quando riesco metto su lì a delle analisi un po più operative qualcosina che magari in un determinato momento riesco a realizzare che non voglio pubblicare su youtube ragazzi perché magari sono video di pochi minuti insomma o riflessioni personali allora qui ragazzi il mercato sta facendo il suo sta concludendo diciamo questa fase io spero proprio che il mercato vada a fare una fase di conclusione di questo mensile che dovrebbe avvenire a dire la verità da tra domani e il giorno 20 ragazzi siamo nei tempi tutto molto lineare il bello lo vedremo dopo sarà anche la parte difficile poi per bitcoin ma andiamo a noi come si fa la dollar cost average in paper trading per seguire questo esperimento su trading intanto la prima cosa che dovete fare è registrarvi al canale perché se non siete registrati al canale e non attivate la campanellina ragazzi non riuscite a seguire i prossimi video che parleranno di questo esperimento quindi cosa fondamentale registrarvi al canale e mettere la spunta sulla notifica l'altra cosa è essere su tradingview e dovete avere un account nella descrizione di questo video trovate anche un link per aprire un account free su tradingview non c'è bisogno di pagare nulla quindi tutto free ragazzi mettetevi lì così insomma ogni tanto pubblico anche io le mie analisi le mie idee ma trovate anche le mie diciamo idee personali allora qui ragazzi sulla tab paper trading riuscite a trovare diciamo questa questa situazione questa possibilità di fare e l'operazione che andremo a fare questa sera alle 8 in maniera paper se non è attivo il paper trading ragazzi dovete semplicemente cliccare su paper trading qui trovate il mio è attivo qui trovate una un tab semplicissimo ragazzi ho fatto vedere anche nell'altro video dopodiché andiamo su questo tab qui impostazioni proprietà del grafico andate sul menu trading vedete qui ci sono tutte le proprietà del grafico e attivate mostra pannello trading mostrando pannello trading vi appare questo bellissimo pannellino che a noi serve per indicare quello che dobbiamo fare intanto vi dico già da subito andiamo a cercare di capire quanto dobbiamo investire molto semplice ragazzi per capire quanto dobbiamo investire in questo momento bitcoin vale circa 8600 quindi andate a fare anzi lo faccio con voi guardate lo faccio proprio con voi in maniera molto semplice andate a fare la divisione su una calcolatrice e del vostro diciamo idea di investito noi abbiamo definito di fare 200 dollari quindi facciamo 200 dollari diviso ragazzi il vediamo se riesco a mettervi proprio la calcolatrice di windows eccola qui eccola qua terribile questa calcolatrice ok scherzi a parte comunque la mettiamo qui nella schermata e vi faccio proprio il calcolo quindi andate a fare 200 ragazzi ok diviso il prezzo della alle 8 di bitcoin che sono 8630 ipotizziamo il prezzo di ora quindi 8630 e vi dice quanti bitcoin dobbiamo andare a comprare 0 23 17 approssimiamo per difetto o per eccesso in questo caso è per difetto perché c'è un 1 quindi insomma andiamo a prendere 0,0 23 bitcoin cosa facciamo ragazzi qui clicchiamo su compra dal nostro paper trading e si apre la schermata si apre la schermata di acquisto ora senza entrare nelle logiche di come si utilizza molti di voi ragazzi la conoscono a memoria quindi possono anche bypassare questo tipo di informazione scrivete qui 0.23 ed è la vostra quantità dopodiché il prezzo potete tranquillamente lasciare al mercato ragazzi perché semplicemente stiamo facendo paper trading quindi non stiamo lì a dire e dopodiché si può cliccare direttamente qui ora lo faccio per farvi un esempio abbiamo cliccato vedete all'interno adesso alzo la mia foto ok la mia immagine vedete all'interno del nostro conto paper trading si è aperta la posizione di acquisto con prezzo medio di carico 8628 su bitcoin i prezzi che ho utilizzato sono quelli di bitfinex perché il mio grafico è così ragazzi poi fate voi un po' quello che vi pare potete utilizzare i prezzi che volete tranquillamente poi un domani ragazzi se vogliamo chiudere basta cliccare qui e ci appare chiudi posizione e andiamo a chiudere posizione cosa che faccio in questo momento a un certo punto se chiudiamo la posizione vedremo che il è stato inserita anche l'ordine e vedete adesso l'ha completato vi appaiono le spunte insomma è qui nel nostro portafoglio non c'è più nulla addirittura ho perso 2 euro chiaramente perché ho aperto inutilmente una posizione e l'ho richiusa va bene allora vi ho spiegato come dovete usare il paper trading e così si può continuare a farlo fino alla fine di questo esperimento siamo arrivati però alla parte finale del video e adesso vi do la mia chicca allora l'esperimento ragazzi lo seguiremo intanto sul mio canale telegram perché nel canale telegram pubblicherò le statistiche di questo investimento quindi da qui al mese e mezzo che ci distanzia dalla fine di questo esperimento inizieremo a pubblicare le statistiche vedremo anche come la dollar cost average andrà effettivamente a impattare sul mio investimento se mi farà comprare bene o male quindi andremo a vedere poi con calma questa cosa e poi la chicca di oggi è questa ho preparato una serie di strategie l'ho accennato prima all'inizio perché io poi non so mantenere i segreti ragazzi comunque ho preparato una serie di strategie che in maniera fantasma io farò insieme alla dollar cost average e prenderò tutti i dati quindi in real time poi alla fine di questo esperimento analizzeremo quale strategia è stata la strategia migliore che ha performato e faremo una serie di conclusioni è una grandissimo esperimento ragazzi questo che stiamo facendo per capire effettivamente questa dollar cost average come funziona e se effettivamente ci sono dei pro dei contro quali sono poi i vantaggi gli svantaggi di questa strategia quale modo migliore se non vederla proprio in attività proprio in azione ragazzi e soprattutto confrontata ad altre strategie perché se la vediamo da soli e non sappiamo non abbiamo conoscenza ma di tante altre strategie lascia un po tutto il tempo che trova quindi bene ragazzi oggi inizia l'esperimento fra poco intanto bitcoin sta sui 8.000 630 sarà buono il nostro primo ingresso sarà buono il nostro primo prezzo lo scropiremo fra sei settimane ciao a tutti ci vediamo domani con il prossimo video grazie